Amici di No della Radio, ma non solo ovviamente perché insomma immagino che possiate guardarmi in tanti benvenuti in quello che sarà uno spazio quotidiano, come sapete, come potrete insomma immaginare la nostra programmazione è momentaneamente sospesa per un motivo che potete anche solo vagamente intuire e mi sono chiesto in che modo rimanere in contatto, in che modo non far perdere le nostre tracce ma innanzitutto magari andando a cercare quelle notizie che in questi giorni per forza di cose non vengono date alle quali non viene data insomma la giusta importanza, notizie che è anche piuttosto complicato andare a trovare e quindi ho detto facciamo un piccolo telegiornale, un piccolo appuntamento quotidiano per dare anche altre notizie che non siano esclusivamente quelle legate purtroppo al coronavirus, è stata una ricerca non semplicissima ma ci proverò insomma proverò a farlo diventare un appuntamento quotidiano anche e soprattutto per rimanere in contatto con voi notizie più o meno belle, più o meno drammatiche e anche qualche consiglio personale la prima notizia è quella legata ad un avvenimento che da qualche settimana, anzi da qualche mese abbiamo totalmente tralasciato ossia quello legato agli incendi in Australia come potete vedere da questo tweet pubblicato dalla pagina dei pompieri del nuovo Galles del Sud appunto in Australia per la prima volta dal mese di luglio del 2019 non c'è alcun incendio attivo nel nuovo Galles del Sud per l'appunto il tweet firmato dai pompieri dello Stato australiano è stato pubblicato lunedì 2 marzo dopo 240 giorni consecutivi nel corso dei quali i giganteschi roghi hanno letteralmente divorato le foreste del sud-est del paese uccidendo 33 persone, distruggendo più di 3.000 abitazioni e radendo al suolo 12,6 milioni di ettari di aree boschive adesso ovviamente si sta facendo la conta dei danni che sono assolutamente ingenti danni anche al patrimonio ambientale, alla biodiversità che appunto popola il continente australiano però ecco la notizia più importante è che dal luglio del 2019 per la prima volta nessun incendio sta devastando il nuovo Galles del Sud in Australia rimaniamo sempre lontani dal nostro paese e dal nostro continente ma ci spostiamo dall'altra parte del mondo perché in Sud America ed in Cile si sono svolti a Santiago i funerali di padre Mariano Puga morto venerdì a 88 anni di età il sacerdote è stato uno dei principali difensori dei diritti umani nei terribili anni della dittatura di Augusto Pinochet dopo gli studi in Europa negli anni 60 fu direttore spirituale del seminario pontificio maggiore di Santiago e negli anni 70 fu preto operaio nella comune di via Franzia la zona della stazione centrale della capitale risale proprio a quegli anni la sua opposizione alla dittatura nel 2009 ottenne il premio eroe della pace dall'università Alberto Urtado rimanendo sempre in Cile nel continente sudamericano ricordiamo che il 26 aprile la popolazione è chiamata al referendum che potrebbe finalmente cancellare la costituzione cilena quella scritta sotto la dittatura proprio di Augusto Pinochet l'emergenza legata al virus attuale però rischia di far arretrare gli spazi della protesta che nel mese di marzo vedono un'agenda fittissima di appuntamenti la popolazione ha paura che il coronavirus venga usato dal governo di Piniera come grimaldello per soffocare le proteste proteste effettivamente già soffocate da mesi di violenta repressione e come scusa per rimandare l'appuntamento di fine aprile quindi l'occhio vigile rimane anche sul continente sudamericano e nello specifico in questo caso proprio sul Cile di Sebastian Piniera a proposito di sacerdoti insomma abbiamo parlato della scomparsa di padre Mariano Puga in Francia è stato condannato a 8 anni Bernard Preinat chi è Bernard Preinat? è l'ex parroco di Lione accusato di aver abusato di alcuni ragazzini durante dei campi scout a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 un caso che ha sconvolto la Francia ha sollevato il tema delle coperture degli abusi da parte dei vescovi e delle gerarchie ecclesiastiche il Tribunale gli ha combinato una pena di 8 anni di carcere senza condizionale il colpevole si è sempre difeso dicendo che dal 1991 non aveva più fatto male ad alcun ragazzino e questa insomma è una notizia che viene proprio dalla Francia tornando in casa nostra e parlando di televisione con un tweet sul profilo ufficiale del programma chi l'ha visto la Rai annuncia che sarà costretta a far saltare almeno una puntata del programma perché uno degli ultimi ospiti è stato trovato positivo per l'appunto al coronavirus però su Rai 3 va in pausa anche Blob sempre citando un tweet ufficiale della Rai a seguito delle misure restrittive adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus la direzione di Rai 3 ha deciso di sospendere la programmazione di Blob per due settimane sui social si sono scatenate le proteste visto che parlando di logica Blob non ha alcun tipo di pubblico in sala quindi insomma ci si chiede perché venga sospeso il programma satirico e se lo chiede soprattutto Sabina Guzzanti insomma che ha mostrato tutto il suo disappunto per la decisione appunto della direzione della Rai rimaniamo in ambito televisivo rimaniamo questa volta in ambito locale e qui a Roma perché diamo insomma la notizia della scomparsa del collega Massimo Ruggeri che è morto nella notte scorsa a Roma giornalista e storico conduttore televisivo del programma La Signora in Giallo Rosso sono decine i messaggi di condoglianze arrivati sui social alla famiglia da parte dei tifosi affezionati ai suoi programmi Ruggeri è stato stato ricordato con un tweet di Cordoglio dalla S Roma e sono anche insomma tantissimi i colleghi e gli ascoltatori che hanno dedicato un pensiero ad una persona da tutti definita come un vero e proprio signore e anche la redazione di Non è la radio si unisce ovviamente al Cordoglio per quanto riguarda la famiglia di Massimo Ruggeri parliamo un po' di cinema perché insomma in questi tempi piuttosto complicati in questi tempi di noia e di solitudine in casa ci si può concentrare anche su qualche film d'autore e l'occasione buona per andare a ripescare un grande classico come il Casanova di Federico Fellini sarà appunto l'uscita in Blu-ray del 17 di marzo di una nuova versione restaurata del film del 1976 con Donald Sutherland un film particolarmente complicato e tormentato che ha messo a dura prova il regista il regista Federico Fellini che a suo tempo ne parlava così di questo film alcuni film nascono sotto il segno di una complicità profonda di un'adesione totale di chi li dirige altri nascono sotto il segno della resistenza e della riluttanza Casanova appartiene a questa seconda categoria forse il film aveva bisogno che io nutrisse degli atteggiamenti di diffidenza totale di antipatia magari di ottusità il film non poteva essere fatto che così come è stato fatto l'invito appunto è quello di portarsi a casa a partire dal 17 di marzo una copia del Blu-ray restaurato di Casanova di Federico Fellini con Donald Sutherland voglio chiudere con un consiglio personale sempre parlando di cinema perché nei giorni scorsi mi è capitato di vedere in televisione un film molto molto particolare assolutamente da non perdere il film è Life of David Gale diretto da Alan Parker un film del 2003 con protagonista un pazzesco Kevin Spacey il film scritto da Charles Randolph trattato avvicino il tema della pena di morte negli Stati Uniti ma allargando un po' lo spettro è il tema della verità della sua ricerca e della percezione di questo concetto ad essere al centro della meravigliosa interpretazione di Kevin Spacey occhio al finale che è tra i più potenti che abbiate mai visto sui grandi o sui piccoli schermi e con questo vi saluto ci vediamo ci sentiamo ci ascoltiamo domani e sempre sulla pagina di Nonè la Radio e sul sito di nonelaradio.it spero di avervi fatto compagnia torneremo appunto domani con questo TG che vuole in qualche modo informarvi anche sulle altre notizie che non siano esclusivamente quelle legate al coronavirus perché nonostante l'emergenza il mondo con le sue notizie belle, brutte, piacevoli o meno piacevoli continua ad andare avanti ed è importante rimanere comunque informati e continuare a tenere gli occhi aperti a domani ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti